Che cosa significa questo premio per il lavoro svolto? Intanto è un riconoscimento per lo studio, quindi è un riconoscimento all'impegno che lo studio ha messo nella, diciamo, assistenza ai clienti in questo settore industriale. Quindi non è un premio soltanto al Dipartimento dei Trasporti, diciamo di Gianni Origoni, Glippo Cappelli, ma a tutto il team, parlando di team intendo il team allargato a tutti i dipartimenti, perché è un lavoro di squadra, l'industria dei trasporti sostanzialmente ha bisogno di assistenza multidisciplinare. E quindi dall'amministrativo, al lavoro, al tax, al diritto alla specialità, quindi il diritto della navigazione e dei trasporti. Quindi è un lavoro di team sostanzialmente, è un'industria che ha bisogno, diciamo, di un'assistenza multidisciplinare. Quindi è un lavoro di team, è un riconoscimento a tutto il team e a tutto lo studio. Ma che aria tira ai tavoli? Che cosa si dice? Ai tavoli intende... Ai tavoli? Ah beh, siamo molto soddisfatti. Siamo molto soddisfatti e è chiaro che è un riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni per costituire e lanciare un dipartimento nel quale abbiamo creduto sin dall'inizio, cioè dalla nascita del Dipartimento dei Trasporti e Navigazioni del 1998 ad oggi, e quindi un lavoro che ormai risale a una ventina d'anni fa. È un impegno che abbiamo creduto e continuiamo a credere fortemente.